Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida visita l'ufficio di Jennifer Walter, come Jennifer Walters, o Yennifer, che dir si voglia. Per fare questa sfida non dovete far altro che sbloccare Jennifer, arrivare al livello 29 del pass battaglia e dirigervi a corso commercio, per la precisione qua. Quindi all'inizio di corso commercio. Ovviamente il bus della battaglia mi lascia sempre dall'altra parte della mappa. La sfida è semplice, veloce, potete farla in qualsiasi modalità. Non dovete far altro che prendere questo personaggio, Skin, e entrare nell'ufficio. Cioè nulla di complesso, insomma. La sfida è veloce, ma ovviamente è la prima di tre, se non vado errato. Dovete completarle tutte e tre per poter sbloccare Shulk. Spero di averlo detto bene. La prima sfida è semplice, veloce, è questa. Quindi, ricapitolando, velocemente, scegliete questo personaggio una volta che l'avete sbloccato, arrivate al livello 29 del pass e visitate l'ufficio. Perché al livello 29 sbloccate le sfide. Prima non vi serve a nulla. Quindi, arrivate qua, vedete, proprio all'inizio di corso commercio, non potete sbagliarvi, c'è anche un bel cartellone qui, un'insegna fuori. Aprite la porta, anzi, non serve nemmeno aprire la porta, e voilà, la sfida è completata.